Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori Federico Chiesa è stato l'uomo fondamentale e insostituibile della compagine Viola durante la partita di ieri sera Un gol da grandissimo attaccante nel primo tempo e un assist decisivo per il gol del 3-3 firmato Muriel È stato Chiesa a spingere a fine primo tempo i tifosi a sostenere la squadra, così come sarà ancora lui il condottiere del ritorno di Bergamo Per Nicola Milenkovic sono forti gli interessamenti in Europa, in particolare dal Manchester United La prima proposta dei Red Devils per il difensore risale allo scorso agosto, poi un sondaggio a gennaio I giornali inglesi parlano di un'offerta da 60 milioni che potrebbe, per forza di cose, far traballare la Fiorentina Per Fiorentina1.com, Riccardo Barlacchi A cura di Fiorentina1.com, la voce del tifoso Viola